allora ragazzi ciao a tutti eccoci col terzo col terzo spacchettamento di un altro proiettore stavolta andiamo a aprire un proiettore un po più un po più qualitativo ragazzi stiamo parlando del nostro optoma ultra hd 42 è un proiettore nuovo un proiettore di quest'anno è un proiettore che va guarda al 4k una simulazione e un dlp comunque sia un buon proiettore io l'ho preso a 1200 euro si trova attualmente si trova ragazzi sui mille mille tre mille due mille tre poi magari se riesco vi metto il link da dove l'ho preso io anche se attualmente non ce l'hanno più disponibile e niente ora andiamo andiamo un attimo ad aprirlo vediamo che c'è dentro questa bella scatola grande nella ripresa ci entro ma non ma non ci entro sto ancora un posto ancora e aggiustando la stanza da dedicare all'unboxing quindi sto un attimo ristretto però più andiamo avanti più cercheremo di fare meglio allora via taglierino 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 eccolo qua vediamo cosa riusciamo a fare apriamo delicatamente ma non troppo sicuramente il telefono nel riprendere vi verrà perché vi ripeto sto ancora ultimando le sistemazioni purtroppo avendo già un lavoro ci vuole molto tempo allora qua giriamo sto pacco vediamo che c'è dentro operiamolo abbiamo questo paziente voilà allora mettiamolo a favore in primis aprendo il pacco troviamo qua cavo alimentazione solito telecomando poi andiamo a vedere è il classico optoma qui sono ritornati al vecchio stile ultimamente avevano fatto dei telecomandi un po più minimal ma di quello che ho letto l'optoma ha optato scusate gioco di parole per questa questo design per una questione di ergonomia per una questione di praticità i bussanti si sentono meglio sono più rilievo e io già ho avuto un optoma con questo tipo di telecomando era sì molto molto comodo vabbè per un salotto non è il massimo anche il colore è un blu lucente quasi sembra un sembra uno di quei telecomandi custom generici però è comodo ok le cartoni qui non riesco a farlo vedere in camera perché ripeto sto messo male va bene tiro fuori così e andiamo fuori i cartoni sono questi appoggiamo qua ci arriva subito il depliant qua ci sono le batterie per il telecomando vabbè istruzioni all'interno molto 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 veloci varie certificazioni spiegazioni in 2000 lingue ci guarda subito appena togliamo la protezione ci guarda subito il proiettore togliamolo ok tolto la scatola la togliamo se vogliamo dare un'occhiata la scatola è molto molto pulita è una scatola classica optoma certificazioni varie anche qui le varie sigle dlp text instrument 4k ultra hd hdr compatibile hdr i10 plus questo dovrebbe avere su proiettori ragazzi a tutte le compatibilità con gli hdr mi sembra anche gli ultimi un proiettore da 3400 anzi lumen a un contrasto da di 555 100 mila uno quindi è un buon contrasto non è non è proprio un contrasto eccelso io venendo da un epson 7003 ho voluto provare questo questo un proiettore che terrò io lo metterò nel mio salotto di casa è un proiettore che diciamo l'ho scelto aspettando il nuovo 95 dell'epson volevo il 9004 volevo passare al 7003 9004 ma visto che il 9003 ha già due il 9004 ha già due anni probabilmente quest'anno già tireranno fuori il nuovo modello comunque ottoma bello esteticamente lo tiriamolo fuori cadono cose ok dietro c'è probabilmente per contrastare l'umidità che potrebbe crearsi all'interno del pacchetto ottimo lavo ottoma ottoma sempre comunque sia racchiuso ottime scelte sia a livello di marketing che a livello di confezionamento dei prodotti ottimo peso la sostanza c'è eccolo qua ragazzi bello bello sotto vabbè tre piedini soliti per regolare la proiezione tutte le certificazioni del caso bello molto pulito mi ha subito piaciuto fino uscito oddio il primo uscire se non sbaglio era l'ultra hd 30 vabbè io questo l'ho conosciuto come l'ultra hd 50 x fuori dall'europa in europa si chiama ultra hd 42 comunque lo stesso gli antico proiettori con le medesime tolgo tutto perché tanto questo poi lo metto in salotto con le medesime potenzialità ecco e vabbè qui troviamo tutti i regolatori regolare l'immagine lo zoom ottimo feeling di qualità feeling molto molto di qualità molto di qualità vabbè classici tasti meno per tornare indietro l'accensore spegnimento per il volume alza e abbasso il volume per entrare nel menù questa dovrebbe essere la spia per il telecomando questo è il fronte ottimo bello mi piace mi piace molto il fronte il fronte mi piace veramente tanto grossa presa d'aria tutti i due i lati di qua un po più piccola ma ci siamo questo dovrebbe essere le casse allora iniziamo con usb tacco rs il vga che fa sempre sempre comodo soprattutto per chi lo usa per lavoro oddio questo è un proiettore che inizio a consigliare veramente per un cinema in casa però c'è c'è un computer qualsiasi cosa 4k l'hdmi in 4k in 60 hertz l'attacco in 4k sempre hdmi in 30 hertz questo è 2.0 1.4 vabbè si leggono anche le sigle ma fate distinzione se poi dovete collegarlo a seconda delle vostre esigenze un attacco usb anche per con l'alimentazione l'attacco ottico che ultimamente non si trovano più neanche sui prodotti di tecnologia attuali inizia a scomparire anche voi guardate le le console next gen che stanno uscendo adesso non hanno un'uscita ottica e secondo me per questo sbagliano perché ci sono ancora molti sistemi di audio che necessitano o comunque sia che danno la possibilità di essere collegati tramite ottica è molto comodo secondo me perché non tutti hanno la possibilità di tenere tutto vicino quindi collegare tutto in hdmi per poi elaborare il segnale stronzate varie 12 volt in uscita e audio in e audio out molte 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 connessioni vabbè non dimentichiamoci l'attacco per l'alimentazione bello a me piace un casino a me piace veramente un casino davanti è pulitissimo c'è questa sigla optomo 4k hd home cinema pulita sotto bello 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 ragazzi un proiettore ecco qua tutto quello che trovate nella confezione quello che fondamentalmente serve quello che fondamentalmente serve questo adesso rimane solamente da fare il test opinioni come gli altri proiettori vi porterò delle immagini porterò dei video vi porterò delle mie opinioni come ripeto sempre senza entrare troppo nei tecnicismi verbalmente nei tecnicismi perché non tutti magari si 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 sono informati dettagliatamente con i con i vari con i vari termini nel dettaglio eccetera quindi io parlerò sempre in maniera molto non dico basica ma cercherò sempre di far capire l'esigenza quell'esigenza che tocchi con mano ecco che semplice da capire quindi tornerò con delle opinioni semplici e veloci niente ragazzi se avete domande se volete altre immagini comunque vabbè adesso altre immagini le porterò sul video mi rimane che fare il test opinioni come unboxing vi ripeto proiettore mi piace è un bel proiettore è solito a un certo peso è veramente beh pensavo fosse anche più piccolo dalle foto ma è un bel proiettore è un bel proiettore che fa la sua figura molto pulito guarda davanti ragazzi non finirò mai dirlo è molto pulito a me piace un casino piace un casino piace addirittura è innovativo ecco è una linea molto innovativa che secondo me si sposa ovunque va beh ragazzi questo unboxing anche veloce si chiude ci vediamo al prossimo video dove vi farò delle piccole dei piccoli video piccole foto con le mie modeste opinioni ciao dimenticavo cosa importante proiettore con una frequenza di aggiornamento molto molto veloce 240 hertz in frequenza che va solo per i 1080 non va in ultra hd però per chi avesse intenzione di giocare in maniera competitiva usando un proiettore fino ad oggi non c'era possibilità di farlo a queste velocità quindi per il gaming soprattutto per gli fps quei giochi che richiedono una una velocità una rapidità un riflesso molto 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 veloce aggiornato questo è il proiettore ragazzi che fa per voi scusate non mi non pede le palle ma mi ero dimenticato tutte le altre caratteristiche ve le scriverò come lo zoom spostamento verticale eccetera ve lo scriverò durante il video vi verrà scritto ok grazie a tutti Al prossimo episodio